La cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita. La frase di Antonio Gramsci riportata nella Carta dei Valori della Ristorazione Italiana spiega in maniera eloquente il senso del documento siglato questa mattina a Pescara che sì, un patto di intenti tra gli operatori della filiera alimentare e le istituzioni locali, ma è anche un modo per ribadire che il mondo enogastronomico è chiamato oggi, nella giornata della ristorazione, a farsi testimone portavoce del valore dell'ospitalità e del senso di comunità, oltre che garante della tradizione nell'innovazione. La nostra ristorazione è di alta qualità, infatti scegliamo i migliori fornitori, ma non solo. Dietro le cucine, cioè dietro quella parete dove ci sono gli operatori che attivano la parte più importante della preparazione di un pranzo e di una cena, ci sono persone che studiano la mentalità dei nostri clienti, che studia anche come affrontare questo momento conviviale che si fa nella pausa pranzo o a cena. Come diceva qualcuno, dammi un bravo cuoco e ti scriverò un buon trattato. Lo diceva un ministro storico nel 1700, dove era un punto dove attraverso questo momento di gustare i buoni cibi si possono anche costruire una serie di iniziative positive. Sono ben 5.000 ristoranti spalmati su tutta la penisola che hanno stretto la mano a Fipe e Confcommercio, un momento che è anche simbolico e che intende sancuire la condivisione dei valori fondamentali che hanno fatto dell'enogastronomia un presidio della cultura italiana. C'è un piatto che adesso si rievoca di nuovo, il primo mangio, che sarà le virtù per amane, che praticamente invece era un piatto che nasceva dalle credenze della cucina, dove tutto quello che avanzava, un po' di fagioli, un po' di ceci, con altre verdure spontanee che vengono mischiate all'interno, quindi era una sorta di festa, di convivio, di rinascita alla primavera. Ed è quello che noi oggi, in questo giorno, che è il giorno che abbiamo pensato per la ristorazione, è un giorno importante che ci trasmette per andare avanti e rinascere ogni volta per l'anno successivo. Grazie a tutti.